Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia, che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo con l'Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temano e amano il Signore e in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto perché, aderendo in Cristo alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. Dio Onnipotente che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiuti, ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi e questo presepe con tanto amore che è stato fatto, con tanta passione e con tanta fede. Benedice le opere delle nostre mani e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore! 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 Glorifichiamo parte del suo composto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.